ciao e benvenuti sul canale Ellipson sono Mathieu responsabile prodotti presso Ellipson e oggi vi presento il DAW35XE la terza generazione della w35 introduce importanti novità per la connettività il w35XE supporta airplay 2 chromecast wifi e bluetooth aptx per la connessione cablata la w35XE ha ingresso ausiliario ottico e presa ethernet rj45 connettività totale per tutti i tipi di utilizzo ampia connettività per altoparlante multi room diffondi facilmente una musica diversa in ogni stanza con un altoparlante w35XE o armonizza gli spazi diffondendo la stessa atmosfera in tutte le stanze dal punto di vista musicale i nostri ingegneri hanno lavorato duramente per fornire la migliore qualità del suono possibile con una registrazione degli acuti e dei medi più chiara e precisa per una riproduzione sonora fedele all'originale nel cuore quattro amplificatori uno per altoparlante potenza tot 350v entriamo nella bestia il w35XE è un'alternativa agli altoparlanti hi-fi con due altoparlanti da 165 mm e due twitter da 25 mm su ogni lato con due w35XE puoi dedicare un canale destro e sinistro a ogni cassa per un'immagine stereo più ampia per il design il w35XE ha una fascia in alluminio nero e un tessuto nero profondo la forma sferica e senza tempo del w35XE lo rende un pezzo centrale connettività e musicalità migliorate design elegante ascolta la musica in modo nuovo